Il grande test post lockdown, la riepertura delle scuole in Abruzzo slitta al 24 settembre. Decisione arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando la Giunta regionale ha deliberato la modifica del calendario 2020-2021, dunque non più il 14, in una situazione che vede le regioni andare in ordine sparso. Campania, Abruzzo e Basilicata scegliono di posticipare la data di inizio delle elezioni, come deciso già da Friuli, Sardegna, Puglia e Calabria, anche per agevolare le operazioni elettorali in programma il weekend del 21 settembre. Ma, sottolinea il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, non c'è alcuno slittamento. Se ci sono regioni che ritengono di dover partire dopo le elezioni, perché ritengono utile fare un'unica sanificazione, possono farlo come meglio ritengono, come hanno sempre fatto nella loro storia. Come ogni anno, il governo ha indicato la data del 14 settembre, come quella per il via delle elezioni, ribadisce Boccia. Poi ogni regione decide autonomamente quando ripartire, così come è sempre avvenuto. A distanza e in sicurezza, dunque, centinaia di migliaia di studenti torneranno in aule con loro, insegnanti e personale ATA. In aula si starà senza mascherina, salvo nei casi in cui non si può rispettare il distanziamento fisico. Per questo, molte scuole hanno organizzato le attività scolastiche anche in altre strutture, a volte anche in teatri o parrocchie che hanno messo a disposizione i propri locali. Alcune lezioni, come quelle di educazione fisica, si terranno mantenendo il distanziamento. Durante l'ingresso e l'uscita da scuola, che saranno indicati con chiarezza come avviene nei locali pubblici, sarà obbligatorio indossare la mascherina, così come sarà obbligatoria negli spazi comuni. Ovviamente, con la febbre oltre 37 gradi e mezzo o con i sintomi del Covid, si resterà a casa e si procederà all'attivazione di tutte le misure per verificare la presenza del virus e fare l'eventuale tampone. La temperatura dovrà essere misurata a casa e non a scuola. Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti, sono tutti materiali che potranno essere acquistati dalle scuole abruzzesi con i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione. Per l'Abruzzo si parla di 64.800 euro, di cui beneficeranno 81 istituti scolastici scelti sulla base di precisi parametri. È stata data priorità a quella con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Una misura voluta dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Zolina. Intanto, nelle scorse settimane, sono state anche distribuite le risorse che consentiranno di fornire agli studenti delle famiglie in difficoltà libri gratis. Un beneficio che in Abruzzo riguarderà 7.554 fra ragazze e ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre, è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-2021 i giorni di attività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono dal lunedì al sabato 201, dal lunedì al venerdì 168-167, compresa la festa del Santo Patrono. Grazie a tutti.